da come si vede basta la strada che va alla rocchetta alle vaschette totalmente interrotta guarda che frana se qualcuno rimaneva sotto qua ha tirato giù anche la strada il muretto tutto ha tirato giù il garrai dentro nel canale tutta la strada sradicata il muro di velto ma cos'è venuto giù addirittura quanto pare l'acqua scendeva da questa parte perché qua si vedono la vegetazione schiacciata tutta la strada tutto è venuto giù strada muro tutto oddio se qualcuno passava in quel momento ci rimaneva sotto ma che roba pensa che cosa fa la natura ma guardate basta la strada non c'è più qua ormai non si passa più da qua completamente interrotto ho 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 Grazie a tutti.